Il premio di miglior capitano che va a Marco Lai della Lupa Madori Poi c'è anche il premio come miglior arbitro che va all'arbitro di oggi Poi andremo a premiare la seconda classificata di questa Europa League che è la Lupa Madori E' Dalia che ci ha detto pure in Venia che si è bene Grazie 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 Grazie